Buongiorno Davido, stamattina mentre stavo sorseggiando il mio latte d'avena barista, ovviamente, stavo pensando che fine avrà fatto il progetto Valky, cioè in realtà non che fine, ma come sta andando avanti, come sta procedendo il progetto Valky. Ora, magari il progetto Valky non è nei vostri pensieri quando voi state facendo la vostra colazione e non ci pensate, ma in realtà era una storia abbastanza interessante, perché se vi ricordate, Valky era il, è il fork di Redis. E Redis è un database key value che è grandemente utilizzato nella maggioranza delle applicazioni web che usano questo tipo di database, quindi quasi il monopolista del mercato, non è vero, però è molto utilizzato Redis, tra l'altro Redis creato da un italiano, Salvatore Sanfilippo, e poi insomma è diventato un'azienda, bla bla bla, benissimo. Qual è il problema di Redis? Che era un prodotto open source, totalmente open source, poi dopo la dirigenza, la compagnia che sta dietro a Redis, ha deciso di cambiare la licenza, ed è passata la licenza SSPLV1 e RSALV2, cioè Redis Source License, che in pratica sono due licenze con cui viene appunto servito il prodotto, non sono licenze open source, considerate licenze open source appunto dalla open source initiative, quindi che succede? La comunità open source si lamenta di questa roba qua, alcuni esuli da Redis prendono in mano il progetto, creano un fork, quindi creano una copia del repository del progetto fino a che possono farlo, cioè fino a che il progetto rimane in licenza open source, dopodiché creano questo progetto nuovo che si chiama ValKey, no? Da Key Value, ValKey, benissimo. Ed è subito ValKey inizia a prendere una certa trazione, come si dice in inglese, cioè raccoglie un po' di supporter importante, perché arriva AWS, arriva Google Cloud, arriva Oracle e poi diventa un progetto ospitato dalla Linux Foundation, quindi insomma è un progetto abbastanza riconosciuto dalla community, però questo appunto si parla di qualche mese fa, nel frattempo le cose evolvono, Redis va avanti per il suo binario, ValKey va avanti anch'essa, nel frattempo crea delle release, e in questo momento quali sono le novità nel mondo ValKey? Quindi sono andato a cercarmi un po' di news e effettivamente ho trovato qualcosa di interessante, cioè che sul carrozzone dei sostenitori di ValKey, che sono sostenitori naturalmente in primis economici, ma poi anche proprio di supporto tecnico, arrivano due nomi abbastanza importanti del mondo tecnico open source, cioè Broadcom e Alma Linux. Broadcom naturalmente la conoscete, mega gigante, che tra l'altro recentemente ha completato l'acquisizione di VMware, quindi un grosso nome del cloud, e poi Alma Linux, che è una distribuzione Linux che deriva da Red Hat, la quale Red Hat è una distribuzione Linux che anch'essa ha portato delle modifiche alle sue licenze, in modo da non distribuire più tanto facilmente il suo codice open source, bene, Alma Linux è una distribuzione che è completamente compatibile con Red Hat Enterprise, e quindi diciamo è la versione, tra virgolette possiamo dire, che è la versione veramente open source di Red Hat Enterprise Linux. Quindi insomma, nomi importanti, tante anche dichiarazioni del settore, che sposano il progetto Valkyrie, che portano avanti questa missione di portare un database di questo tipo nella comunità open source, con tanti contributor, portare feature nuove, innovazioni, e una release prevista per quest'estate con tante novità, insomma il progetto sembra guadagnare terreno. Non ho visto numeri, cioè nel mondo reale non so davvero come si sta posizionando Valkyrie rispetto a Redis, so che molte distribuzioni Linux stanno sostituendo Redis con Valkyrie, proprio per questioni di licenze, cioè molte distribuzioni accettano solamente prodotti con licenze open source e compatibili con le loro, quindi non possono adottare Redis, e quindi vanno verso Valkyrie. Però nel mondo enterprise, diciamo, dove le aziende pagano per prodotti cloud, non so bene i numeri di Redis rispetto a Valkyrie, però comunque il progetto sta andando avanti, sta raccogliendo dell'interesse, e al di là di questo, secondo me il tema interessante rimane sempre lo stesso, cioè qual è la modalità giusta di fare business con l'open source, perché Redis comunque rimane un progetto open source, un grande progetto open source, ha cambiato licenza, non è più, diciamo, considerato un progetto open source, però di fatto il codice sorgente è lì e si può leggere, si può studiare, però il punto è che Redis è un'azienda che vuole creare un business sostenibile intorno a un prodotto open source, Valkyrie vuole fare la stessa cosa, però con il supporto di una comunità e di una pluralità di nomi, e con una licenza che permette a chiunque di prendere quel prodotto, rivenderlo, modificarlo, farci quello che vuole senza dover corrispondere niente a Valkyrie o l'associazione che appunto lo ospita, cosa che invece con Redis non si può fare, con Redis qualunque tipo di uso a pagamento, in cloud, come servizio, poi bisogna corrispondere a una licenza a Redis. Quindi insomma questi modelli, come hanno fatto già altri prima di Redis, come ha fatto Elastic, come ha fatto MongoDB, insomma, stanno scontrandosi con la reazione del pubblico, ma stanno anche cercando di capire se sono sostenibili sul lungo periodo. E siccome nessuno ha ancora trovato la formula perfetta per cui coniughiamo open source e business e tutti sono contenti, sia gli investitori che la community, è interessante vedere come proseguirà questo discorso. Redis non sarà l'ultima che ha fatto questo tipo di cambiamento e che proporrà un modello di questo tipo, quindi sono molto interessato a capire quali saranno i prossimi modelli che arriveranno. Saranno uguali a quelli di Redis o simili a quelli di Redis Mongo, oppure verranno proposti anche modelli alternativi. Magari è interessante anche un modello open core, no? Con un cuore di un prodotto open source e poi alcune feature costruite sopra appositamente closed e quindi a pagamento per poi supportare il cuore invece open. Insomma, ci sono vari modelli possibili. A me piace molto investigare questo mondo e quindi volevo aggiornare anche voi sullo stato attuale della lotta tra Valkyrie e Redis e ora direi che possiamo andare direttamente alle news di oggi. Allora, oggi volevo parlarvi di Claude 3.5 Sonnet. Ora mettiamo insieme queste tre parole. Innanzitutto Claude. Claude che cos'è? Claude è la famiglia di LLM, quindi Large Language Model, di Anthropic, che è una società americana, però fondata da due italo-americani, che sono Dario e Daniela Amodei. Insomma, questa è l'informazione così di contesto per fare bella figura la domenica. Ecco, Claude è il loro modello, quindi Claude è un concorrente di GPT, di OpenAI e di Gemini di Google. Benissimo, 3.5 è la nuova versione. Hanno presentato la 3.0 a marzo, adesso hanno presentato la 3.5, quindi evoluzione, no? Di Claude. Sonnet è il nome della variante. Loro hanno tre varianti dei modelli. Già da marzo hanno presentato questa distinzione in varianti. Hanno tre varianti che sono di diverse dimensioni. Le hanno chiamate con le dimensioni di un testo, no? Cioè, la prima, la più piccola, è Haiku, quindi Haiku è il modello piccolino. Poi c'è Sonnet, quindi proprio Sonnetto, che è il modello di mezzo, quindi il modello intermedio, che cerca di coniugare un po' la qualità con le dimensioni un pochino più contenute. E il terzo, quello più grande, che dovrà uscire fra un po', è Opus, che invece naturalmente è quello gigantesco. E la cosa interessante però è che Sonnet, nonostante sia quello di mezzo, è già più potente in questa versione del Opus della versione 3.0, la versione appunto presentata a marzo. Infatti, secondo i benchmark, Claude 3.5 Sonnet supera già Claude 3 Opus. E come vedete, dai vari benchmark, che bisogna naturalmente sempre prendere un po' con le pinze, perché sono benchmark create dall'azienda stessa, ma insomma, poi in attesa di benchmark indipendenti e poi di Arena, sapete Arena quel sito dove vari LLM sono messi a confronto da esseri umani, che li provano senza sapere quali sono e poi danno un punteggio, insomma vince il migliore, però in anonimo per non avere condizionamenti, ma insomma, prima di avere quei risultati, abbiamo questi benchmark semi-ufficiali, insomma. E se riguardate, vedete che Claude 3.5 Sonnet è il migliore, praticamente in tutte le categorie, ed è utile anche per vedere quali sono gli altri modelli importanti, cioè in questo momento del mercato, quali sono i tre modelli più potenti e con i punteggi migliori dei benchmark? Beh, naturalmente, quindi Claude, in cui la versione 3.5 pare il modello attualmente migliore sul mercato, poi c'è GPT 4.0 di OpenAI, che già avevamo visto, c'è Gemini 1.5 Pro, rilasciato da Google, e poi c'è Lama 400, che è il modello rilasciato da Meta. E la cosa interessantissima di Sonnet è anche la nuova interfaccia, che si compone di una parte a sinistra per mettere il prompt, quindi con la classica finestra a chat, e una parte a destra dedicata invece agli artifact. Cioè, quando si chiede a Claude di produrre del codice, un'applicazione, magari anche dei materiali visuali, come dei grafici o qualcosa che sia da rappresentare, ecco, lui sfrutta proprio la parte di destra di questa interfaccia, di questa finestra, per produrre codice e poi eseguirlo. E quindi poi in quella parte si può vedere l'applicazione costruita proprio da Claude 3.5. Quindi è proprio un editor completo a tutti gli effetti. Potete vedere il lavoro che Claude sta facendo mentre costruisce la vostra applicazione e poi ve la mostra in questa finestra di destra. Quindi è una app costruita su questi due livelli, i prompt e poi la finestra di output con tutto il lavoro che Claude ha eseguito. Quindi ora potete provare Claude 3.5 Sonnet gratuitamente, ma naturalmente con un numero limitato di interazioni, se andate su Claude.ai. Poi potete provarla anche con la app Claude iOS, mentre se avete già un account pro o un account team potete utilizzare questo modello, tra l'altro con un prezzo minore rispetto a Claude 3.5 Opus. Quindi non solo vi trovate un modello migliore, più veloce e anche con delle risposte più interessanti, ma anche a un prezzo inferiore, quindi Antropic è riuscita anche a giocare sul prezzo. Peraltro vi dico altre due cose frizzanti che ho trovato su Claude 3.5. Lo trovo sul Guardian, che ha una bella sezione che riguarda l'EI, ci trovo spesso articoli interessanti. Bene, su Claude 3.5 l'autore di questo articolo su Guardian scrive che ha trovato nelle risposte di questa chat una migliore comprensione delle sfumature del linguaggio, dello humor, di istruzioni complesse. Insomma, l'esperienza di chattare con questo chatbot appunto è stata più piacevole rispetto ad altri chatbot perché era molto più simile, è molto più simile nelle sue risposte a quello che ci aspetteremo da un essere umano. Cioè riesce a cogliere nei prompt, tra le righe, ecco qualcosa che gli altri magari non riescono a capire. E questo ha fatto sì che l'esperienza sia stata più interessante, più piacevole. E l'altra cosa invece riguarda la sicurezza di questo modello. Il Guardian è un giornale britannico e quindi ha rilanciato con particolare interesse la notizia del fatto che Claude 3.5 è stato testato dalla UK Artificial Intelligence Safety Institute che è appunto questa cosa creata, finanziata e voluta da Rishi Sunak che poi ha creato anche l'AI Safety Summit. Insomma, il tema della sicurezza nell'AI è un tema che in UK è piuttosto sentito ma lo è anche in Europa, no? Avete, vi ricordate l'AI Act? Insomma, poi ci torneremo prossimamente. Ma il fatto che Claude 3.5 sia stato testato da questo istituto UK e non da un corrispondente statunitense che è lo US AI Safety Institute la quale praticamente ha dato in outsourcing questi test appunto all'istituto UK è per un giornale britannico molto interessante e noi adesso sappiamo anche che c'è una istituzione di una certa importanza che controlla la sicurezza dei modelli linguistici che sta in UK. E prima di passare alla seconda notizia che comunque riguarderà sempre la AI di anticipo vi do una pillolina o una suppostina dipende da cosa preferite voi conoscete Toys R Us Toys R Us, quella catena di negozi di giocattoli americana gigantesca su cui si fa un sacco di narrazione da sempre per il sogno americano di questo ragazzo che voleva creare giocattoli bla bla bla, va benissimo Toys R Us, ecco ha creato un nuovo spot pubblicitario dici che cacchio c'entra con questo podcast? C'entra perché questo spot pubblicitario di cui vi faccio vedere un estrattino poi dopo magari lo metto intero alla fine di questa puntata se volete vederla insomma, questo è lo spot che state vedendo in questo momento se guardate il videino del podcastone questo è uno spot generato interamente a quanto dice l'agenzia che l'ha fatto da Sora quindi è il primo spot interamente creato da un sistema di intelligenza artificiale che genera video come appunto Sora di OpenAI naturalmente il fatto che questo spot sia stato generato dall'AI ha attirato un sacco di critiche questo spot peraltro raffigura il creatore di Toys R Us cioè il bambino che si vede nel filmato è esattamente creato sulle fattezze di un piccolo Lazarus si chiama Charles Lazarus il fondatore appunto di Toys R Us che ha questo sogno in cui vede sti giocattoli bla 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 insomma, pare che sia stato interamente generato da Sora che tra l'altro Sora non è manco disponibile al pubblico quindi non so bene come abbia fatto questa azienda a creare intanto ve l'ho fatto vedere tutto ve l'ho fatto vedere tutto questo spot quindi non c'è più bisogno neanche di metterlo alla fine del video ma naturalmente critiche intanto per l'impatto ambientale che hanno questi sistemi perché per generare questo spot quanta energia si è dovuta consumare quindi quanto è stato l'impatto ambientale di questo spot e poi naturalmente che l'industria dei giocattoli che è un'industria dove in teoria la creatività dovrebbe essere ancora una cosa molto valorizzata ecco invece di utilizzare delle persone, dei creativi per creare questo spot appunto ci si è rivolti all'intelligenza artificiale quindi di fatto delegando il lavoro della creatività umana a una macchina insomma queste sono un po' le critiche principali rivolte a questo spot poi dopo l'agenzia si è anche difesa dicendo che in realtà qui dintro c'è più creatività di quella che vi aspettereste sia in pre che in post produzione ma insomma di fatto questo è il primo spot pubblicitario creato da Sora non so se vi piace o no guardatelo e poi vi fate la vostra idea oh e finalmente torniamo a parlare di Rabbit R1 no vi ricordate di Rabbit R1? vi è già passato di mente perché secondo me questi device che arrivano in pompa magna dicendo di voler distruggere tutto per realtà distruggono solo se stessi le loro finanze soprattutto le finanze dei loro investitori benissimo poi passano nel dimenticatoio come succede e succederà a Humane AI Pin vi ricordate quel pin che si appiccica alla maglietta e poi vi proietta le cose sulla mano ecco nessuno farà mai questo gesto e a nessuno interessa e Humane andrà rapidamente verso il dimenticatoio mentre Rabbit R1 qualcosa di carino effettivamente lo ha per esempio la sua scocca il suo design perché per chi non se lo ricordasse Rabbit R1 è un aggeggino piccolino quadrato con uno schermo quindi potrebbe sembrare uno smartphone strano ma comunque assomiglia più forse a un videogioco all'innovanta perché ha questa scocca in plastica arancione vibrante tra l'altro un bel design fatto da Teenage Engineering se a qualcuno interessa insomma ha questo schermo piccolino solo in bianco e nero e in risoluzione bassina poi ha una rotellina per interagire con i comandi di questo schermo e una telecamera che si può ruotare in avanti e indietro che gli consente di guardare cosa c'è intorno a lui obiettivo di questo device è dirti che cosa c'è intorno a te darti le recensioni di un posto di un ristorante di cui sei davanti risponditi a domande come farebbe un chatbot quindi con il suo large language model semi proprietario insomma in server farm a cui appunto dal device si interagisce quindi non è tutto in locale ma sono domande che vanno appunto a questi server e poi con questa grandissima innovazione che Rabbit doveva essere in grado di utilizzare le app dello vostro smartphone al posto vostro quindi utilizzare Uber per chiamarvi una macchina utilizzare Deliveroo per ordinarvi la pizza insomma fare le cose che fate voi con lo smartphone però lui sapendo conoscendo già i vostri gusti semplicemente rispondendo a un vostro comando cosa che in realtà si è dimostrata praticamente falsa quindi le varie cose che ha promesso non le fa e si è poi dimostrato essere praticamente una app Android messa in una cosa che non è uno smartphone è una cosa molto meno potente ma di fatto l'app può essere estratta da Rabbit e buttata in uno smartphone Android funziona lo stesso ma al di là di questa di quest'altra piccola figuraccia qual è la cosa davvero croccante è stata fuori adesso con Rabbit R1 beh che un gruppo di sviluppatori tra l'altro che si chiama Rabbitud e che ha creato un sito web che riprende un po' le grafiche del sito vero di Rabbit insomma hanno scoperto che le API keys con cui Rabbit R1 si connette ai servizi che usa poi per funzionare sono retta presenti in chiaro nel codice di Rabbit e sono riuscite a prenderlo ora qua non è ben chiaro ecco ho usato la stessa parola vabbè non è evidente se queste chiavi fossero nel codice del client di Rabbit o del server di Rabbit nel caso del client sarebbe veramente una cosa scandalosa a livello di pratica e di security però se fosse invece nel back end nel server non è chiaro come abbiano fatto ad averci accesso a queste chiavi insomma fatto sta che sono riusciti a prendere le API keys e voi sapete che le API keys sono praticamente come delle password una volta che scopri le chiavi tu puoi interagire interrogare i servizi che interroga appunto Rabbit spacciandoti per Rabbit quindi poi ottieni accesso a tutto quello che potrebbe guardare Rabbit e cosa ha scoperto Rabbitood che soprattutto accedendo a un servizio che è quello di Eleven Labs che si occupa di text to speech eccetera loro hanno possibilità di vedere tutta la history delle chat delle richieste degli utenti fatte con Rabbit R1 quindi hanno accesso praticamente a tutte le chat degli utenti di Rabbit R1 quindi sono lì basta avere la chiave sono accessivi da tutti questa roba naturalmente è di una gravità inaudita non solo possono avere accesso anche ad altri servizi con altri API keys per esempio SendGrid che è invece un servizio per mandare email quindi potrebbero potenzialmente mandare email agli utenti di Rabbit spacciandosi per Rabbit stesso hanno pubblicato quindi tutto quello che hanno scoperto sul loro blog sul loro sito Rabbit poi ha risposto che questa roba stanno investigando non è proprio vero poi dopo hanno fatto rotazione delle chiavi quindi alcune chiavi non sono più le stesse Rabbitood ha risposto che sì alcune chiavi non sono più le stesse altre sì quindi riescono ancora ad accedere ad alcuni servizi insomma quello che riescono a fare con queste chiavi scoperte tra l'altro il 16 maggio poi non le hanno divulgate subito aspettando che Rabbit almeno fosse a conoscenza del problema poi adesso invece l'hanno divulgato perché hanno detto nonostante Rabbit sia a conoscenza del problema non ha fatto niente per sistemare ma insomma cosa si può fare? si può leggere ogni risposta che ogni Rabbit R1 ha sempre avuto quindi anche quelle con informazioni personali qua devo dire che non mi è chiaro se si può leggere solo la risposta o anche le domande degli utenti arrivate a Eleven Labs ma insomma qui si parla di risposta poi si può rompere gli R1 si può far smettere di funzionare gli R1 perché? perché se il servizio che dovrebbe rispondere con la voce non risponde più e quindi si va a spegnere quel servizio allora R1 diventa inusabile si può alterare la risposta quindi inserendosi nelle risposte di Eleven Labs si può modificare la risposta prima che venga inviata a un R1 quindi interagendo in maniera anche abbastanza pellicolosa con il meccanismo di fiducia tra l'utente e il device che gli dà la risposta si può anche volendo rimpiazzare la voce dell'R1 cioè la voce che risponde in ogni R1 questa roba potrebbe essere un po' più simpatica ma insomma è una cosa che si può fare e altre cose dice Rabbit e poi sono elencati i servizi per i quali hanno ottenuto le chiavi che sono Eleven Labs come dicevo il text to speech poi c'è Azure per altri sistemi di text to speech e di speech to text più vecchi poi c'è Yelp per le review dei ristoranti e Google Maps per le location quindi insomma una serie di API che gli spettatori sono interessanti vi dicevo la risposta di Rabbit è ancora abbastanza confusa non hanno fornito risposte incoraggianti e infatti Rabbithood continua a premere su questo argomento è interessante vedere come anche questo non solo ha praticamente disatteso e infranto tutte le promesse che aveva fatto al lancio nonostante abbia anche venduto bene e nonostante ripeto sia un device con un bel design simpatico carino ma ecco come in altri prodotti che arrivano e promettono di distruggere il mercato e di cambiare il modo con cui gli utenti interagiscono con i device come erano i smartphone in realtà si scontrano contro il muro della realtà e poi alla fine vengono fuori anche queste situazioni fatte in modo un po' raffazzonato magari per tagliare sui costi e il sogno che un piccolo team si scontri con i giganti del web e possa vincere magari alcune battaglie e niente viene ancora una volta infranto che peccato allora attenzione due link che vi do oggi il primo è State of JS 2023 lo trovate su 2023.stateofjs.com è il risultato dell'annuale sondagione sugli sviluppatori javascript per capire un po' quali sono le tecnologie più usate più amate più disprezzate e avere quindi un po' un'idea di come sta andando il mercato quindi se siete sviluppatori front end vi consiglio di guardarlo perché ci sono appunto delle indicazioni interessanti se volete anche sul mio canale youtube trovate un video proprio sullo State of JS 2023 che ho fatto io dove leggo invece e commento tutte le singole voci di questo sondaggio che poi naturalmente tutti i graficozzi che vi dicono quali sono appunto i vincitori di questo sondaggio ve lo consiglio comunque se volete andare a vedervelo per cacchi vostri 2123.stateofjs.com e il secondo link invece è un post apparso ieri sul tech blog di Spark Fabric si intitola Public Speaking is like eating chilies e è un post scritto dalla mia collega e amica Daniela Bonvini che ci parla della sua esperienza di Public Speaking questo è un post che non è prettamente tecnico e non è limitato all'ambito informatico quindi potete anche condividerlo con qualcuno di altri settori insomma parla Daniela della sua esperienza nel provare a salire sul palco e parlare quindi con le sue con i timori iniziali del fare questo passo e poi come invece è riuscita a superarlo e quindi che consiglia un po' questo approccio anche ad altri sfruttando proprio la sua esperienza e questa metafora culinaria con i peperoncini piccanti quindi lo ripeto Public Speaking is like eating chilies lo trovate su tech.spalfabric.com Ed è finita anche questa prima puntata di luglio del podcastone luglio sarà diciamo l'ultimo mese della seconda stagione di questo podcast quindi questo mese chiuderà la seconda stagione del podcast non so se chiuderà solo la stagione ma poi ne riparleremo magari più avanti ci saranno cose di cui dovremo discutere lungo questo mese intanto questo mese cerchiamo di farcelo diciamo cerchiamo di farcelo quasi tutto perché la terza settimana purtroppo invece la salterò interamente dall'inizio alla fine perché ho vari impegni che poi vi racconterò e quindi non ci sarò mai le altre settimane cercherò di essere abbastanza presente e poi parleremo del futuro di questo progetto insomma quindi a presto ci sentiamo fate i bravi mi raccomando ciao